Leonardo da Vinci Non dormiva mai Leonardo Oh Leonardo Pensate Leonardo inventò come prima cosa Tanto per iniziare da ragazzino L'energia solare Prese l'idea da Archimede Pitagorico che non era italiano Era greco ma abitava a Siracusa Per cui comunque respirava aria italiana Bene lui prese questa invenzione La modificò con un sistema di specchi Catturava i raggi del sole Leonardo Per scaldare l'acqua Quindi si può dire che Leonardo ha inventato L'acqua galla Dice poca roba L'acqua galla Ma non c'era manco lo scaldabagno la caldaia Ma che scherziamo Che c'erano le pompe di calore Quella era già una cosa Però un po' ti ha fatto a doccia o l'acqua fredda Poi vedi se non è buona Leonardo ha inventato macchine da guerra geniale Ha inventato la catapulta La catapulta l'ha inventata Leonardo Era già un'idea inventata dai romani Ma lui la perfezionava non solo Leonardo Che era talmente tanto Non dormiva la notte Lui inventò i cannoni Leonardo Se li faceva da solo La notte prima di andare a riposare Se faceva due cannoni E si appoggiava tranquillo Oh tranquillo E riposava almeno quell'oretta Leonardo Ma che scherziamo Leonardo ha disegnato il prototipo del sottomarino Perché non sapeva notare Dice io da sopra mi affogo Se ci vado sotto E lui passava sotto alle cose Chiaramente no? Tutta roba ha chiaramente invenzioni Che si sono diffuse così A macchia di Leonardo Ma ti rendi conto? E poi ha progettato una cosa Impensabile per l'epoca Leonardo ha progettato l'elicottero Nel 1480 L'elicottero Che Leonardo Se avesse saputo Che secoli dopo La Polverini Ex governatrice del Lazio Avebbe usato l'elicottero Per andare alla Sagra del Peperoncino Leonardo diceva Io a quella straccia a culo Non gli invento niente Che Leonardo Leonardo avrebbe detto questo Perché era un carattere Era un carattere Tremendo Ah Lui avrebbe Guarda Ti giuro Pur di non fare Avrebbe inventato l'aereo Dici invento l'aereo Non lo ha fatto Perché non ha fatto in tempo Ma in compenso Leonardo Ha inventato lo steward L'aereo no Ma lo steward si Perché l'uomo vitruviano Non è altri Che uno steward nudo Che sta lì E indica Le uscite di sicurezza No Fastenbelt Quel nudo Perché ha detto Io intanto invento lo steward Poi la divisa Ce la mettete voi E la inventate voi In base alle compagnie aeree Che devo fare tutto io Leonardo era un visionario Per i suoi tempi Pensate che già nel 1490 Leonardo aveva progettato La prima autovettura Ecologica Ecologica Leonardo lo fece Non lo fece certo un coreano Non lo fece un cinese Un giapponese Lo fece Leonardo Nel 1490 Era una macchina ecologica A tre ruote Tre ruote Per diminuire La percentuale di probabilità Che bucasse una Ne ha fatta a tre Era il primo ape Il primo ape Diciamo a molla Perché non aveva un propulsore A gasolio Faceva a molla Lo caricava come l'orologio Quello faceva dieci metri Tra trovo E si fermava Tra trovo e si fermava Ci mettevi tanto Però intanto arrivavi Ed era chiaramente Questa l'evoluzione Di un'altra sua Invenzione La bicicletta La bicicletta Non l'ha inventata Un inglese L'ha inventata Leonardo Nel 1490 La fece lui proprio De sua mano De legno Tutta di legno Ecologicissima Tutta di legno Con i rode di legno Perfetta Lui la fece Chiaramente lui Non l'aveva mai vista Una bicicletta Non è che l'ha vista E poi l'ha rifatta Lui non l'ha Lui ha messo Ha inventato Ha inventato i pedali Ha inventato la catena I rocchetti Ha inventato Una marcia sola Ci ha messo il manubrio Ci ha messo La trombetta Ci ha messo un po' De cose Quelle che gli venivano in mente Così Ci ha messo il cestino Ci ha messo il giornale Ci ha messo le cose Che gli venivano Ci ha messo il lucchetto Perché a Firenze Essendo in tanti Che anche Roma Si faceva Comunque Quando ha finito di farla Mentre la stava Stava mettendo Il marchio Bianchi Lo voleva chiamare Comunque Prima di mettergli Il marchio Uno dei suoi discepoli Il favorito Diciamo Quello che gli offriva I suoi favori Perché Leonardo Era talmente avanti Che non aveva moglie Perché gli inventori Non possono avere moglie Perché gli inventori Fanno tardi la sera Non vanno a dormire Se hai una moglie Tu moglie Hai sette Dice Pronto Vieni a tavola Uno che deve inventare I cannoni Dice Non so che ora faccio E quella Dai che se no Si scoce E uno E due E tre No Anche perché Quando poi la moglie Prende confidenza Che gli nasce Qualche figlio Che mette Che te stai inventando Stasera Te lo dice No E' un inventore Ne vuoi di che te stai A inventare E' proprio naturale Per cui Leonardo Se hai levato il problema A monte E dice Donne dentro casa mia No Non voglio estranei Per cui si è messo un discepolo Si è messo Questo discepolo Si chiamava Salai Salai Cos'è questa cosa di legno Salai 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 Ha voluto la bicicletta Eccola E come funziona maestro E' tanto bella Salai Funziona E si mette il piede sinistro Nei pedale sinistro E si mette il piede destro Nei pedale destro E si va E Salai salì Salai salì E si fece tutto un giro Intorno al giardino Maestro E' tanto veloce E' tanto bella E' tanto piacevole E' tanto confortevole Salai Torna indietro E devo inventare il sellino Salai Un'allontanare Vieni qui E tu ti fai male Questo nel 1490 Perché Leonardo Aveva orizzonti lontani Leonardo Era un uomo che vedeva lungo Non lunghissimo Perché Ancora non era stato inventato Il cannocchiale Non fece in tempo Leonardo Perché morì presto Morì a 67 anni Erano Diciamo Due anni Che era andato in pensione Aveva preso lo scivolo In pieno Boom Una botta secca E non ce l'ha fatta più Comunque Il cannocchiale Lo inventò un altro Il cannocchiale Qu'è l'ha fatta più E' l'ha fatta più E' l'ha fatta più E' l'ha fatta più